Francamente non vi so dire se Antonella esce o non esce, ma io credo che lei sa di non uscire o comunque non si sente sicura di uscire, quindi bisognerebbe approfondire il perché. Guarda questo. Comunque ricominciano questa storia, signori non se ne può più. Stanno in uscita e dai che parlano di questo Antonino e di questa Antonella che forse usciranno fuori di qua. Signori, andassero anche a fare sesso H24, ma a noi cosa importa? Cioè per me, signori, in questi programmi ci vuole qualcuno veramente che ci fa ridere. Chiamalo Pagliaccio, chiamalo Burattino, però abbiamo bisogno di trasmissioni dove, specialmente queste molto lunghe, dove si ride. Invece queste stanno diventando trasmissioni pesanti, pesanti. Questo poi si vede che a forza di fare forum è entrato troppo nel personaggio. Quindi, signori, pensate che io sto facendo un video per non spengere il canale. Nel senso che siccome è noioso, magari facendo il video passa il tempo. Però, signori, comunque, Antonella quando cammina è tutto un programma. Ecco, adesso perché ripetere ancora, anche se Antonella, guarda, 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 guarda. Quando litiga, ha ragione Edo, Antonella comincia a camminare come una star. Ma pensate il livello dozzinale, cioè per farlo proprio in gelosine. E beh, c'ha il freno a mano, ma lui fuori dalla casa, questa qui, le mette le mani addosso, poverina. Non pensate che sia tanto... Io quest'uomo lo vedo come tanti che circolano in Italia ultimamente. Sono troppo aggressivi. Questo più di una volta ha alzato aggressione. Si è vista l'aggressione psicologica, eh. Perciò, signori, aspettiamo sta busta nera. Poi magari c'è un bluff. Ma non tanto se dovesse uscire da qua. Ma...